ragazzi adesso c'era l'insegna hard, però mi sembra che di hard dicevamo ierrino l'unica cosa che poteva essere hard erano le cascette di labbra, che tirano un bull e vabbè ma i ragazzi qua hanno un altro concetto dell'hard un altro concetto anche nei posti più remoti ah, è un testis aspettiamo che vede muovere ma dai, andiamo a aspettare questa di nuovo aspettiamo la di nuovo no, lo chiediamo muovere, dipende che si è fermato là non, lo chiediamo